Ehi, ciao! Appena in tempo per la fissa quotidiana di Spyper Magnus. Mi stavo giusto chiedendo, e se fosse uno di quelli che adesca gli sbirri? Sarebbe Outlaw Urbano di nome di fatto, eh? Ehi, tira il freno, non mettere in giro voci. Lo so, non è per dire, ma non sarebbe pazzesco? Spike, non è assolutamente possibile. Capito. Vado. Spike, a volte mi chiedo se sia a posto. Ok, Emi, abbiamo un nuovo pilota di cui occuparci. È un po' timido, quindi facci piano, ok? A dopo, ragazzi. A dopo. Allora, dovresti venire qua, così ti spiego le regole. Sai dove siamo? Devo andare. Chi majority? Proverata. Controverata. Sì, qui si. Allora dovresti venire qua, così ti spiego le regole. Ok, sto arrivando, ho un po' di dolore. Ciao. Beh, grazie. Usa gli attrezzi che vuoi, tranquillo, ma rimettili a posto quando hai finito. A parte questo, è a tua disposizione. Eccola di ultima ossessione. Vieni. Oh. Questa sarà la mia prossima opera d'arte. Me lo sento. Voglio farla vedere Anna Kaysan prima che lui lasci la città. L'approvazione di un artista come lui darebbe un bel prestigio a questa officina, giusto? Ok, beh, ho finito. Adesso esco. Forse dopo raggiungo Spike. Oh, Travis ha spostato le auto, così ora c'è spazio per te. E ti conviene prenderlo prima che rimpiazzi quella con molta altra roba. È un buon momento per mettere a fuoco le idee, sai? Pensare all'auto. Seguire la tua visione. Wow. Parlo proprio come Travis. Ok. È tardi, vado. Ok. Divertiti. E ci vediamo in giro, ok? Oh, e... Metti gli attrezzi a posto. Già me l'hai detto. Grande. Ci vediamo. Ciao, ciao. Mettiamo questo. Direi di metterci anche questo. Mettiamo anche questo. E per finire mettiamo... Questo. Grandi notizie, amico. Abbiamo un bell'accordo con un deposito. Non dobbiamo più vendere le auto che non usiamo. Possiamo parcheggiarle lì. Controlla in garage. Ok. Ok. Ehi, come va? Sto girando per Royal Park. Non c'è niente di regali in questo posto, ma... Va bene così, eh? Chi sono io per criticare? Oltre che il campione. Vieni qui. Prima che arrivi la pula. Pace. Beh, sta arrivando. Coglioni di merda. Ma non stavo mica correndo, eh? Stavo andando abbastanza piano io. Non ho fatto niente. Affano. Prendimi se ci riesci. Porca puttana. Prendimi. Ah, son... scendi dalla macchina e vattene a cagare vai pezzo di merda mi ci voleva questa adesso li devo seminare, li devo seminare, li devo seminare porca troia mi ha trovato quel figlio di puttana il gps mi sa, cazzo cosa faccio, cosa faccio riesco a agitare qualcosa, cazzo non è possibile sono più veloci non so che fare la mia macchina è abbastanza veloce salvami sto impazzendo forse sono già pazza o sto per diventarlo scusa mi paneggio devo uscire ci vediamo non accetto rifiuti ti conviene esserci io non rifiuto però prima devo seminare la polizia forse ci sono riuscito a seminarli sfuggito sfuggito vaffanpuno sto givanto ok amico diamoci dentro preparati a una bella lezione sono pronto cazzo è troppo veloce cazzo porca troia vieni qua vieni qua che ti prendo vieni qua ca puttana ti prendo e ti supero affanculo cazzo mi stai attaccato al culo eh pezzo di merda leve cazzo mi sembra che qui abbiamo un vincitore diventiamo nuove sulle programmi attaccato tira Cio, suppongo tu abbia qualcosa da fare, vieni all'Honghorn di Franklin Terrace, stiamo rilassando lì, a dopo. Ok, contaci. Sai, c'è imballo parecchio, ma voglio fermarmi un po', vedere che succede. Cosa? No, no, aspetta, fammi spiegare, ok? Vera pare, è troppo sicuro. Cosa? E' un'esitazione, non ce n'è, chiaro. E chi l'ha detto? Ehi, tu. Forza, Emi, dammi una mano. Io un po' lo amo e un po' l'odio, cioè mi fa star male sentire che rimbalza sull'imitatore, ma, ma, mi emoziono anche quando la faccio scivolare al punto perfetto. Sì, sì. Ok, me ne vado. Vieni con me? Sì, ok. Vagero. A dopo. A dopo. Siediti, amico. Lui odia la derapata per una semplice ragione. Non ne è capace. Oh. Ci vuole una certa raffinatezza per farla scivolare e sgommare alla grande. Devi portarla fino al punto critico. Ho ragione oppure no? Non sbagli mai. Beh, è così. Devi avercelo nel sangue, chiaro? Ah, lo vedi? La nostra Robin. Lei ha classe. Ha la mano ferma. Spy? Lui invece strattonerebbe il freno a mano come un teenager neopatentato. Ma dai, Manu, non è così male. È un bene che suo padre abbia qualche soldo in tasca. Ecco quello che pensa. Ok, abbiamo parlato troppo. Vado fuori. E da quando questo è un problema? Beh, è un problema quando stiamo qui a chiacchierare invece che fuori a guidare. Ascolta. Sto mettendo insieme qualcosa. Niente di concreto per ora, ma... Se sei stanco di zen e vuoi un po' di caos rumoroso... Ok? Ti farò sapere. A dopo. Sempre una curva avanti, la ragazza. Quando c'è lei, le cose succedono e basta. Ad ogni modo... Ti consiglio vivamente di provare a sgommare avventura, Bey. Sì. Ti chiamo, ok? Ok. Ti metto in contatto con la scena locale. Va bene. Spike, dammi retta. Lascia perdere questa cosa di Magnus. È una leggenda. È l'unica strada per la vetta e battere una leggenda. Devo dare ragione a Travis qui. No, anche tu, Robin. Ehi, perché non segui il tuo piano? È questo il mio piano. Il mio nuovo piano, non capite? Ora o mai più. Senti, Manu è a Longhorn. Andiamoci e parliamo l'Eco. Calma. Ah, scordatelo. Io ho deciso. Non posso, Robin. Ho un appuntamento. Un'altra volta, ok? Ok. Tenete d'occhio il novellino. Va bene. A dopo. Ragazzi, ci vediamo a Longhorn. Sì, hai ragione. Non ne so veramente un tubo di biliardo. Com'era questo? Era buono? Ho capito il tuo gioco. Se sei così sicuro, perché non alziamo un po' la posta? Ecco. Mi sa che è uguale per te i suoi soldi. Non devi sperperare i soldi per il college. Per come guidi, ti servirà un piano B. Ah, Manu. Impara qualcosa dal nostro amico qui. Sai che fa? Tiene la bocca chiusa e gli occhi aperti. Forza? Un vero furto. Come ti va? È quasi ora. Quanta caffeina ti sei fatto, Spike. Robin ha ragione, rallenta un po'. Mi spiace, signori, ma il treno non rallenta. No. Magnus non è arrivato in vetta andando piano. No, ma in ogni caso tu non sei lui. Ehi, sentito? Ah, sì, sì. Questo è il suono che faccio quando me ne sbatto. Sembra sia il momento. Sì. Oh, tieni acceso il telefono amico. Stanotte avremo da fare. Andiamo. Grazie tante. Grazie. 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 Grazie.